DRAGATE E APPALTI Ossia ambulanze ferme. Sanità sempre più in affanno a Vivo Valencia, dove ha del paradossale quanto avvenuto nei giorni scorsi quando i mezzi per 118 non sono usciti per carenza di lettighe. Il Gran Maestro è l'antimafia. Ha negato di essere stato eletto con i voti dell'Andrangheta Stefano Visi, Gran Maestro del Grand Oriente d'Italia, sentito dalla Commissione parlamentare guidata da Rosi Bigli. Salvate l'aeroporto dello stretto. E' questo l'appello a politica e istituzioni che giunge da un giovane reggino affetto da distrovia muscolare e impossibilitato a raggiungere Bologna per le cure. Recuperi in Agrodolce. In Serie D raccoglie un punto la Palmese, vicinissimo al successo contro la Cavese, mentre sul campo della San Cataldese il Castrovilleri perde negli ultimi secondi di gara. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione della Cida, Tiziana Bagnato e da tutta la redazione. In apertura, come avete sentito dai nostri titoli, ancora una volta cronaca con la raffica di arresti e di sequestri avvenuti questa mattina nell'ambito di una maxi-operazione condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento delle procure antimafia di Reggio e di Catanzaro. La cronaca di Consola Dominiti. L'obiettivo era chiaro, creare un sistema di gestione degli appalti in Calabria per cui alla fine tutti sono contenti. Così si esprimeva l'imprenditore Gianluca Bagalà, uno dei principali indagati delle due inchieste Cumbertazione e Cinque Lustri eseguite nella giornata odierna dalla Guardia di Finanza con il coordinamento delle DDA di Reggio Calabria e Catanzaro. 33 soggetti sottoposti a provvedimento di fermo accusati a vario titolo di associazione mafiosa e associazione per delinque era aggravata dall'avere agevolato l'Andrangheta. 54 le aziende sequestrate in tutta Italia. Le indagini hanno svelato come il gruppo imprenditoriale Bagalà legato al clan Piromalli di Gioia Tauro abbia truccato almeno 27 gare indette da diverse stazioni appaltanti anche grazie alle complicità di alcuni funzionari pubblici. Il cartello delle imprese coinvolto nell'affare illecito era composto da 60 società. Spiccano sul fronte reggino i fermi dell'ingegnere Pasquale Nicoletta e della sorella Angela, dirigente del comune di Gioia Tauro, ma anche dell'imprenditore Giorgio Morabito. A Cosenza invece è stato appurato il collegamento fra il gruppo Barbieri, titolare delle opere più importanti degli ultimi anni, con il clan muto Lanzino Ruappatitucci e Piromalli. Un rapporto consolidato da una fitta rete di interessi economici e finanziari per un valore complessivo di appalti pari a 100 milioni di euro. Consolato Minniti per la Cineus 24. E da questa inchiesta antimafia che si è sviluppata su un doppio binario, quello di Reggio e di Catanzaro, emergono numerosi particolari. Erano tre i vantaggi principali per imprenditori e clani inseriti nel meccanismo di aggiudicazione illecita delle gare pubbliche. L'esecuzione di appalti per procura grazie ad aziende compiacenti, l'agevolazione di imprenditori mafiosi così da aumentare il prestigio dell'andrangheta, creando sinergie d'alleanze, la realizzazione concreta delle opere, gestendo l'assunzione delle maestranze e creando consenso sul territorio. Sono tante edi rilevole commesse e giudicate dal gruppo Barbieri, dalla riqualificazione di Piazza Bilotti con la creazione di un parcheggio interrato, passando per un impianto di risalita di Lorica con la relativa gestione per 25 anni, fino ad arrivare alla creazione dell'aviosuperficie di Scalea, anche in questo caso con una concessione ultraventennale. Un vero e proprio monopolio sulle infrastrutture che vedeva protagonista anche la famiglia Bagalà, che a Gioia Tauro ha ottenuto opere come il Lungomare, il Parco Urbano, il Palazzetto dello Sporto e la riqualificazione del Torrente Budello. Sono emerse inoltre irregolarità nell'esecuzione dei lavori dello Svincolo di Rosarno sulla 3 Salerno-Reggio Calabria. Sotto sequestro sono finiti fra l'altro 38 immobili, una struttura alberghiera con spiaggia, piscina, ristorante e impianti sportivi, una discoteca e una sala slot. Infine l'aspetto più inquietante, molte delle opere realizzate avevano materiale scadente o di qualità diversa rispetto a quanto previsto dal capitolato, con conseguenti rischi nel loro utilizzo. Consolato Minniti per la CNews24. E sentiamo adesso qual è stato il commento a margine della conferenza stampa dei capi delle procure di Reggio e Catanzaro. Il cartello di imprese legato alle cosche è un cartello che di volta in volta ha determinato l'impresa che doveva acquisire l'appalto. Ecco, le regole venivano totalmente sovvertite perché gli unici a partecipare erano gli imprenditori che legati all'andrangheta o inseriti nell'ambito di quel circuito criminale che ha costituito il sistema di acquisizione degli appalti consentiva di volta in volta di attribuirlo alle persone che o alle imprese predeterminatamente erano state individuate. Questa indagine ci ricorda tante cose. Ricorda quando noi eravamo giovani, quando nell'89 ero pubblico ministero e il mio procuratore aggiunto bombardiere era Gip Allocri e in quell'occasione è stato sequestrato il sindaco di Bovarino rilasciato dopo poche ore. Questo ci ha insospettito tantissimo. Quindi partendo da quel sequestro di persone abbiamo trovato che in tutti i comuni della Locride c'era un cartello e un'indagine piena di riscontri dove ci sono decine e decine di aziende sequestrate. All'epoca noi avevamo solo la prova documentare e qui abbiamo intercettazioni telefoniche e ambientali quindi le due indagini sono granitiche, fatte molto bene sia dalla Procura di Reggio Calabria che da quella di Catanzaro. Consolato Minniti per la CNews24. Sono 32 le persone raggiunte da fermo nell'ambito di questa operazione. Andiamo a vederle insieme con l'aiuto della videografica. Luigi e Giuseppe Bagalà, i due omonimi, Francesco Bagalà di 40 e 27 anni, Giorgio Murabito, Rocco Pasquale e Angela Nicoletta, Carlo Cittadini, Giorgio Ottavio Barbieri, Gianluca Scali, Cristiano Zuliani, Ettore Della Fazia, Francesco e Filippo Migliore, Alessio Lacorte, Vito Lagreca, Santo e Francesco Fedele, Bruno Polifroni, Rocco Leva, Bruno Madaffari, Maria Vittoria Plastina, Emilio Cipolla, Domenico Coppola, Angelo Zurzolo, Gaspare Castiglione, Mirko Pellegrini, Davide Bencardino, Giuseppe Caputo, Angelina Corsanto, Massimo Longo, Mario Piromallo. Voltiamo adesso pagina e torniamo a parlare di sanità. Il pronto soccorso dell'ospedale di Vibo è emblema di una sanità in affanno. Medici ed infermieri eroi laddove mancano addirittura le barelle. Cristina Iannuzzi. Oggi al pronto soccorso di Vibo Valencia c'è un normale via vai di pazienti, medici ed infermieri. Le barelle prese in prestito alle ambulanze sono ritornate ai loro posti. Una giornata campale testimoniata pure da queste immagini. Quel giorno allo Iazzolino si sono presentate così tante persone che i lettini sono stati tutti occupati dai pazienti, costringendo i medici a parcheggiare i nuovi arrivati nel corridoio oppure sulle stesse barelle in dotazione alle ambulanze. I sanitari del 118 sono pertanto rimasti fermi, loro malgrado, dalle 21 alle 24 del lunedì. A me quello che mi farà è che se tu da casa c'è un incidente con 4-5 ferite e tu non hai una sorella e sei la tua. Questo non riesco a capire io. Basta sostare qualche minuto al pronto soccorso per rendersi conto di persona, del carico di lavoro cui quotidianamente sono sottoposti medici ed infermieri. Se no, per le ore di condizioni di su mare. Poi per la mia sanità noi lavoriamo con il doppio di quanto dovremmo lavorare, perché non sono esaggiati. Ti devi scappare a prendere la prevenzione lavoratoria o vai in ginecologia e non hai la coperta per un suono, devi scappare per trovare un suono con un prevenziano. Invece se ci fosse tutto la prevenzione? Se ci fosse tutto la prevenzione, ma principalmente per il paziente. Cristina Iannuzzi per Racinews24. Voltiamo decisamente pagina. Ha negato di essere stato eletto con i voti dell'Andrangheta Stefano Bisi, grande maestro del Grand Oriente d'Italia, che è stato sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Ha negato di essere stato eletto con i voti dell'Andrangheta il gran maestro del Grand Oriente d'Italia Stefano Bisi, in audizione come testimone in Commissione Antimafia. Un incontro, quello avvenuto ieri, in cui non sono mancati i momenti di attrito. La domanda, posta dalla Presidente Rosi Bindi, nasce sulla scorta delle dichiarazioni del pentitolo giudice, detto il Nano, che insieme al collaboratore di giustizia Cosimo Virgilio, pochi mesi fa aveva dichiarato che in Calabria ben 28 logge su 32 sono controllate dei clan, spiegando poi che la nuova criminalità organizzata calabrese sarebbe proprio il frutto di una vera e propria commistione con la massoneria. Niente di più falso per Bisi, che ha spiegato di fare affidamento su controlli interni, provvedendo subito alla sospensione o alla demolizione della loggia nel caso venissero riscontrati i comportamenti contrari. Come nel caso appunto calabrese. Quattro, secondo quanto riportato da Bisi alla Commissione, le loggie in provincia di Reggio soppresse. Il gran maestro ha anche negato la presenza in massoneria di parlamentari e ringraziato i calabresi i cui voti sarebbero stati fondamentali per la sua elezione. Tiziana Bagnato per la CNews24. E ora spostiamoci a Nicotera nel Vibonese dove siamo stati per incontrare la Commissione straordinaria che regge il Comune dopo lo scioglimento per mafia. Agostino Pantano. La Commissione straordinaria che guida il Comune di Nicotera insediata il 10 gennaio scorso è già al lavoro per risolvere il problema dell'acqua inquinata che esce dai rubinetti. Ieri sera abbiamo incontrato qui su e spesso invito del Presidente della Commissione sia i rappresentanti della società che forniscono l'acqua al Comune di Nicotera, quindi della Solecal, sia quello dell'Asla. Per cui ci siamo raccordati nella costituzione di un tavolo tecnico che vede la presenza dei commissari, quindi del Comune di Nicotera, della società che fornisce l'acqua, dell'Asla e del Comitato Civico. La terna guidata dal Viceprefetto Adolfo Valente e composta anche da Michela Fabio ha avuto riscontri positivi dai tecnici dell'Asp. Se ieri sera l'Asla del territorio ha confermato attraverso la propria certificazione che l'acqua è, diciamo, priva di fattori inquinanti o meglio, composta da fattori inquinanti rientranti nei limiti normativi. Nel metodo impostato dai commissari però l'interlocuzione con il Movimento 14 luglio sembra destinata a proseguire. Per risolvere un problema c'è bisogno della compartecipazione di tutto e anche e soprattutto dei cittadini. Noi come amministrazione dobbiamo verificare anche le condotte comunali. Agostino Pantano per la CNews24 Era una notizia appena abbattuta dalle agenzie. C'è anche un sessantenne di cosenza tra le persone disperse all'hotel Rigopiano in provincia di Pescara. La struttura è stata investita da una valanga dopo le scosse di terremoto e le forti nevicate delle ultime ore. Le generalità del Cosentino non sono state ancora rese note ma la sua presenza è stata confermata dall'unità di crisi istituita alla prefettura di Pescara. E mentre a Roma si discute del futuro dell'aeroporto dello Stretto giunge da un giovane affetto da distrofia muscolare un appello contro la chiusura dello scalo reggino. Dominella Trunfio. Per me è importante che l'aeroporto non becca chiuso perché per noi è importante andare da Polonia e all'ospedale per i controlli attuali. Tra i tanti che si battono contro la chiusura dell'aeroporto di Reggio Calabria c'è anche Daniele Chiovaro un giovane ragazzo costretto insieme ai fratelli Simone ed Emanuele a fare conti con la distrofia di Duchenne. Vorrei rivolgere l'appello anche a tutti i politici e ai cittadini della città di Reggio Calabria. Per fare i controlli tutta la famiglia si sposta annualmente a Bologna tra mille difficoltà. Qui non c'è un centro di riferimento a Reggio Calabria che segue in tutto i malati di distrofia muscolare. Daniele utilizza per respirare un ventilatore polmonare ormai per 20-21 ore al giorno. Sarebbe impossibile oltre il viaggio aereo che già comunque è complicatissimo perché devono scendere dalle loro carrozzine i ragazzi essere saliti in braccio sul sedile dell'aereo fare il viaggio, farli risalire. Il ventilatore polmonare che usa Daniele ha un'autonomia di 4-5 ore. Cioè come faremmo noi ad andare in una città X vai di Catania per prendere l'aereo. Da Reggio Calabria per la C-News 24. E continuiamo a parlare di trasporti. Dopo importanti risultati ottenuti nell'interesse dei pendolari calabresi l'associazione Ferrovia in Calabria annuncia nuove modifiche sulla linea ionica calabrese. Il servizio è di Rossella Galati. Grazie ad un continuo e costante confronto con le istituzioni e all'attenzione rispetto all'esigenza dei pendolari l'associazione Ferrovia in Calabria continua a registrare risultati importanti. Uno fra tutti il collegamento tra l'Ocri e la mezza terme centrale a partire dal mese di dicembre 2016 con l'entrata in vigore dell'orario invernale di Trenitalia che effettua fermate anche a Caulonia, Guardavalle, Badolato e Montepone-Montauro centri purtroppo ancora scarsamente serviti dall'offerta ferroviaria. Ma le novità non sono finite. Altre piccole e necessarie modifiche già online sui canali ufficiali di Trenitalia partiranno da fine gennaio. A partire dal 26 gennaio alcune piccole modifiche interesseranno la linea ionica calabrese. Infatti verrà ripristinata la fermata a Palizzi per il regionale 22481 da roccella ionica in partenza alle 13.05 per Reggio Calabria e verrà anticipata alle 7.50 l'arrivo del regionale 22490 l'Ocri e la mezza terme centrale per renderlo maggiormente fruibile agli studenti che appunto studiano a Soverato. Queste modifiche fanno seguito all'istituzione del treno regionale tra l'Ocri e la mezza terme centrale il ritorno che è una delle nostre più importanti battaglie vinte in questi ultimi anni quindi si è riuscita a ricollegare la fascia ionica a sud con la mezza terme e quindi con i treni a lunga percorrenza. Rossella Galati per la Cineus 24 Torniamo alla cronaca 20 migranti ospiti in una struttura di accoglienza di Gambari in Aspromonte sono stati allontanati a seguito di incidenti e di violenti disordini in servizio. Da un paio di giorni sono ospiti del centro di accoglienza San Gaetano Catanoso della Caritas di Reggio Calabria sono i 20 migranti tra cui un minore che da luglio vivevano all'hotel Excelsior di Gambari in Aspromonte e che si sono visti recapitare un decreto di revoca di accoglienza a seguito di incidenti avvenuti il 6 gennaio. La responsabile della struttura alberghiera si legge nel documento della prefettura regina dopo i violenti disordini chiede l'immediato allontanamento dei migranti responsabili. Si parla ancora di scontri fisici e di tre episodi in particolare il ferimento alla testa di un migrante all'addome di un altro e della frattura del dito della mano della nipote della titolare della struttura. Tutto è iniziato il 5 gennaio spiega questo ragazzo dopo cena siamo stati male abbiamo chiesto spiegazioni ma c'è stato risposto che se non ci piaceva il cibo potevamo tornarcene in Africa. Da lì è seguito prima uno sciopero della fame poi una protesta dove effettivamente le teste calde del gruppo che non si trovano però qui con noi adesso hanno dato vita a episodi violenti. Abbiamo denunciato più volte la situazione in cui vivevamo con i riscaldamenti accesi solo un'ora al giorno senza acqua calda se non per poche ore abbandonati a noi stessi dopo la scadenza del contratto della cooperativa che ci ha sostenuto fino al 31 dicembre. Mi hanno svegliato dicendomi che sarei stato trasferito in un centro migliore dice quest'altro ragazzo ma a bagnare le forze dell'ordine ci hanno chiesto di firmare il decreto di revoca. Da quel momento in poi eravamo liberi di andarcene perché nessuno si sarebbe più preoccupato di noi. Nareggio Calabria per la CNews 24. Voltiamo a pagina prima seduta dell'anno della conferenza episcopale Calabra nel seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Diversi temi trattati la CEC si è interessata del Tribunale Ecclesiastico alla luce dei nuovi orientamenti di Papa Francesco. I vescovi ad esclusione dell'Arcivescovo di Cosenza Bisegnano hanno ritenuto necessario trasformare il Tribunale Ecclesiastico regionale Calabro in Tribunale Calabro interdiocesano. Sul tema lavoro i presuli hanno manifestato anche piena solidarietà le comunità di Reggio Calabria e di Crotone per le ventilate chiusure dei due aeroporti. E ora la politica si avvicina il voto per l'elezione del nuovo presidente della provincia di Cosenza. C'è un solo candidato Franco Iacucci del PD. La cronaca di Salvatore Bruno. Ha scelto un istituto scolastico Franco Iacucci per presentare alla stampa la propria candidatura alla presidenza della provincia di Cosenza. L'istruzione e la cultura sono elementi fondamentali per la crescita di un territorio ma anche perché l'amministrazione provinciale ha mantenuto competenze importanti sulle edilizie scolastiche e sulla gestione delle scuole secondarie superiori. L'esponente del PD corre senza competitor per l'esclusione di De Caprio. Il suo nome ha messo d'accordo la coalizione di centro-sinistra allargando anche al nuovo centro-destra. Ha messo d'accordo sicuramente il mio partito a livello unitario la dirigenza il corpo dei sindaci del mio partito e forse il lavoro che ho fatto in questi anni il risultato di avere considerazione positiva da parte sia del mio partito che da parte dei sindaci e dei miei colleghi è un lavoro che ha dato i suoi frutti quindi un partito unito una coalizione unita che siamo riusciti poi ad allargarla come dicevo prima all'NCD e quindi abbiamo fatto una coalizione forte rappresentativa e che ci ha consentito di arrivare a risultati positivi e io mi auguro che questo percorso che abbiamo fatto in provincia di Cosenza sia di esempio anche in altre realtà. Da Cosenza per la Cineus 24 Preoccupa il silenzio caduto sulla trasversale delle serre il comitato chiede allora un incontro urgente all'ANAS Nasce meno di un anno fa il comitato Sblocchiamo la trasversale 50 anni di sviluppo negato con lo scopo in parte raggiunto di sollecitare il completamento di un'opera strategica per il collegamento fra l'area ionica e quella tirrenica la trasversale delle serre a piccoli passi sembrava si stesse andando nella giusta direzione essendo riusciti a fare intervenire politici amministratori e soprattutto i vertici ANAS nei mesi scorsi infatti diversi tratti sono stati ultimati come gli svincoli di Gagliato Argusto e Chiaravalle Torre di Ruggero per non parlare dell'avvertenza degli ex operai della trasversale che da un decennio attendono ancora ingenti spettanze arretrate in merito alla quale è intervenuto lo stesso comitato ma molto resta ancora da fare per una infrastruttura che attende il completamento da circa 50 anni Francesco Pungitore presidente del comitato manifesta preoccupazione sul silenzio calato sull'opera il comitato vuole ora riportare al centro dell'attenzione mediatica politica e istituzionale la vicenda di questa incompiuta il triste vizio degli annunci purtroppo ha colpito ancora detto Pungitore con riferimento all'otto di trasversale di Montecucco che doveva essere aperto entro dicembre del 2016 e di cui allo Stato non si sa nulla si chiede pertanto un incontro urgente con ANAS consiglieri regionali e parlamentari interessati per un confronto costruttivo e propositivo il comitato si rivolge infine al presidente della regione Mario Oliverio partecipi anche lui e l'invito e confermi gli impegni presi nei mesi scorsi Rossella Galati per la Cineus 24 E apriamo adesso la pagina dello spettacolo dopo lo strepitoso successo di Reggio Calabria il musical Notre Dame de Paris sarà rappresentato anche a Cosenza nel prossimo mese di giugno tre le date in programma Notre Dame de Paris lo spettacolo musicale da record tra i più amati di tutti i tempi sbarca anche a Cosenza con tre date ospitate nello stadio San Vito Marulla il tour fra tappa nel Capologo Bruzzo il 23, 24 e 25 giugno con il suo cast originale tra i nomi spiccano quelli di Lola Pons e di Gio di Tonno l'evento sarà curato dal promoter calabrese Ruggero Pegna che ha trovato piena collaborazione nell'amministrazione comunale è una combinazione di successo delle musiche dei testi delle scene dei costumi la capacità compositiva di Riccardo Cocciante in quest'opera ha raggiunto un livello tale da consentire a quest'opera di vivere così a lungo ma io penso che sia una di quelle opere che resteranno per sempre questo appuntamento che sarà l'ultimo in Calabria a Cosenza è un'occasione per chi ancora non l'ha visto ma abbiamo già notizie di persone che lo rivedranno per l'ennesima volta tant'è il carisma il fascino quanto sia accattivante ogni momento di questo di questo grande spettacolo da Cosenza per la Cineuso 24 e ora lo sport con il calcio e la serie D mancavano all'appello due gare valevoli per la prima giornata di ritorno e rinviate per il maltempo ebbene si sono giocate nel pomeriggio di ieri vediamo come è andata con Alessio Bompasso orgoglio e reimpianti lacrime e gioia nel recupero della prima giornata di ritorno del massimo torneo di lettanti protagonista le calabresi Palmese e Castrovillari rischia il crack la squadra nero-verde bloccando la vicecapolista Cavese e sfiorando addirittura il successo fallendo un penalty che avrebbe potuto regalare l'intera posta in palio dalla Dischetto e Crucitti a sbagliare e a far mordere la lingua e dal Torione Boys che tuttavia rafforzano la posizione in centro classifica a più 5 dai play-out e a meno 4 dai play-off e se i regini piangono con un occhio al Castrovillari non ne bastano due per esprimere l'amarezza dopo il K.O. sul gong contro la San Cataldese protagonista in negativo il portiere calabrese che prima si fa infilare così da Cariotto per l'1-0 di casa e a 60 secondi dalla fine sbaglia l'uscita regalando il gol del K.O. a Bruno nel mezzo il momentaneo pareggio di Ragosta non cambia nulla quindi in graduatoria generale per il gruppo di viol sempre in bagarra play-out Alessio Buompasso per la CNews24 e ora andiamo a vedere le classifiche di Serie D con l'aiuto della videografica con 41 punti e prima in classifica Ligia Virtus a seguire la Cavese con 39 Rende Sicula Leonzio con 37 Gela 31 punti Turris 30 Pomigliano 29 Gladiator 28 Palmese 27 Frattese San Cataldese 26 Gragnano e Aversa Normanna 22 Sarnese 18 Roccella 17 Castrovillari 13 Sersale 5 2 Torri 4 E adesso proseguiamo con la palla a volo si fa in salita la strada in Coppa Italia per Soverato e Palmi in A2 femminile per noi Maria Chiara Sigillò Rimpianto e delusione al Palascop a Passa Legnano che dopo il campionato si giudica anche il secondo match contro Soverato la squadra di Coach Saia si arrenda le Lombardi nel turno di andata vollevole per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Legnano che si impone per 3-7-1 una sconfitta che compromette così il cammino delle Ioniche nella competizione nella gara di ritorno questa volta in trasferta ci vorrà una grande prestazione lucidità e freddezza da parte delle Calabresi e rivivere magari chissà le emozioni della scorsa stagione con il trofeo sfumato solo nel finale ma il pensiero delle Biancorosse è già al prossimo impegno in campionato domenica tra le Muramiche farà visita il Chieri riduce da una pesante sconfitta e appaiata in classifica scenario identico a Palmi Filottrano espugna il Palasurace in 3-7 esordio sfortunato per le regine alla loro prima storica qualificazione nella competizione un match comunque combattuto dalla squadra di Giangrossi che lascia il passo alla capolista Palmi che senza ormai troppe aspettative giocherà il tutto per tutto nella gara di ritorno ma non c'è tempo per riflettere si pensa già alla trasferta di domenica in casa della vicecapolista Pesaro Maria Chiara Sigillò per la CNews 24 Con lo sport termina questa edizione della nostra informazione vi ricordo a seguire l'appuntamento con i fatti in diretta condotto dai colleghi Pietro Comito e Rosaria Giovannone che si occuperanno di call center grazie per averci seguito visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie a Grazie a tutti.